strumento numero 7 per diventare un trader profittevole la checklist che cos'è una checklist è semplicemente una lista di elementi da osservare allora sei davanti a un grafico e io mi diverto molto quando vedo i nostri aspiranti trader che vanno a valutare un'operazione perché a volte buttano dentro cose che non c'entrano niente sì in effetti c'è tutto ma non mi sento di farla perché oggi piove capisci che a volte mettiamo dentro delle cose che veramente non c'entrano nulla hai una lista di elementi da controllare questi elementi sono presenti sì allora faccio l'operazione questi elementi non sono presenti scarto l'operazione in maniera che sarai profittevole più volte di quanto ti sbaglierai è l'unica ancora di salvataggio per fare trading in modo profittevole questo strumento lo trovi all'interno delle nostre strategie nel trader vincente ciao e alla prossima video